Romina Carrisi, quel tatuaggio, particolare, sapete qual è il suo significato nascosto? Tra i tanti disegni e parole impressi con l'inchiostro sulla pelle della dolce Carrisi, ha suscitato particolare interesse una scritta sul suo braccio destro, OM. Una parola inglese, molto semplice, che in italiano vuol dire, casa, ma qual è il suo significato per la figlia di Albano? La ragazza ha spiegato, sono io la mia casa. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearla ovunque io vada, con chiunque io sia. Un bellissimo e profondo significato, che la giovane Carrisi ha saputo spiegare alla perfezione. E voi ci avevate fatto caso? Nei mesi scorsi è diventata una presenza fissa del programma pomeridiano di Rai 1, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Lei è una figlia d'arte e la fama dei suoi genitori dura da quasi mezzo secolo. Stiamo ovviamente parlando di Romina Yolanda Carrisi, meglio nota Coma Romina Junior, figlia minore di Albano e Romina Power. La splendida 34enne appassionata di poesie, fotografia e teatro, è riuscita a raggiungere un equilibrio negli ultimi anni dopo un periodo buio in cui non si sentiva soddisfatta di se stessa, ma oggi quel malessere è finalmente alle spalle. Molto attiva sui social, la giovane Romina ama mostrare vari dettagli del suo stile unico e della sua personalità. Impossibile non notare ad esempio i suoi bellissimi tatuaggi, sempre di gran classe.